Benvenuti a questa lezione introduttiva sul sito di Scratch Per prima cosa dobbiamo cercare sul nostro motore di ricerca Scratch e poi andare a cliccare sul primo risultato che ci uscirà, ossia Scratch Image Program Share Come vedrete si aprirà il sito ufficiale di Scratch che è appunto come un social network tutto dedicato a Scratch Quindi per poter accedere a questo social dedicato a Scratch dobbiamo innanzitutto registrarci Per registrarci dobbiamo cliccare su Uniscite la comunità di Scratch Inserire il nostro username, scegliere la password, confermare la password e procedere ai passi 2, 3 e 4 inserendo le proprie informazioni personali Sino a quando Scratch non ci invierà un'email all'indirizzo che avremo comunicato e dovremo non far altro che accedere all'indirizzo email aprire queste email e cliccare sul link all'interno dell'email e quindi il nostro account dedicato a Scratch sarà avviato Successivamente non dobbiamo far altro che entrare nel social network e per farlo dobbiamo premere su Entra, inserire il nome utente che avevamo indicato al momento della registrazione e la password Successivamente premiamo su Entra Entrando avremo una piccola home dove avremo tutti i progetti in primo piano le gallerie in primo piano, ossia le cartelle con all'interno determinati progetti di un creatore o un gruppo di persone che collaborano insomma come una playlist di una serie di lavori e poi ancora altri progetti Andiamo a guardare le modifiche che possiamo fare al nostro account Cliccando sul nostro nominativo, sul nostro nome utente possiamo accedere a Profilo e quindi potremmo innanzitutto modificare la nostra immagine del profilo cliccando sopra la foto al momento del gatto e caricarla direttamente dal nostro pc poi possiamo descrivere chi siamo e su cosa stiamo lavorando sul nostro profilo abbiamo anche tutti i progetti condivisi tutti i progetti preferiti tra quelli che abbiamo visionato e che abbiamo quindi indicato come preferiti tutte le gallerie che sto seguendo tutte le gallerie in cui sono o che mi piacciono e tutte le gallerie che invece sto curando la galleria che ho creato e che appunto sto gestendo sempre dal profilo possiamo vedere le mie cose e quindi tutti i progetti che possono essere ancora una volta divisi i progetti condivisi, ossia i progetti che sono accessibili veramente da tutti gli utenti di questo social dedicato a scratch e i progetti non condivisi che sono appunto i progetti a cui sto lavorando ma che ho deciso di non condividere momentaneamente magari perché è ancora in fase di elaborazione e che quindi posso vedere soltanto io poi abbiamo naturalmente le gallerie che sto gestendo e il cestino con tutti i progetti che ho eliminato nell'ultimo periodo adesso andiamo a vedere altre impostazioni di questo sito abbiamo la barra di ricerca dove possiamo cercare un determinato argomento che ci interessa esaminare ad esempio la linea del tempo quindi scrivo linea del tempo, faccio cerca e quindi ho vari progetti su questo argomento sulla linea del tempo apro il primo progetto e quindi adesso posso provare ad esaminare questo progetto facendolo appunto pass quindi premo sulla bandierina verde e vado a cliccare su uno dei puntini quindi si laurea a Cambridge nasce a Londra il 10 dicembre insomma così via quindi cliccando questo progetto funziona cliccando su ogni pallino in corrispondenza a cui corrisponde una data avremo l'informazione sui due personaggi a cui è dedicata la linea del tempo come vedete al fianco del nostro gioco abbiamo anche una barra di istruzioni nella quale appunto possiamo inserire come funziona questo programma e questo è molto utile soprattutto per tutti i visitatori che vorranno provare il nostro gioco sotto ci sono anche le note e i crediti ossia se ad esempio questo lavoro nasce da un'idea di qualcun altro allora possiamo ringraziare appunto quest'altra persona per aver dato uno spunto oppure per aver collaborato a questo lavoro al di sotto abbiamo una stella e un curicino la stella serve per indicare come preferito questo lavoro e quindi lo troveremo molto semplicemente andando direttamente dal profilo ed esaminando tutti i lavori preferiti e poi abbiamo il coricino che permette di lasciare un like a questo lavoro il gradimento a questo lavoro poi abbiamo naturalmente la barra dei commenti dove potremo anche lasciare un commento all'autore di questo lavoro cosa molto importante vabbè l'occhio mi indica le visualizzazioni totali del lavoro e poi abbiamo quest'albero che è l'albero dei remix cos'è un remix? praticamente un remix si ha quando noi partendo da questo progetto andiamo a rielaborarlo qui ossia andiamo a prendere delle parti di codice e andiamo a fare delle modifiche o al codice o anche alla scena personalizzandolo e quindi facendo rinascere un secondo progetto se andiamo a cliccare sull'albero dell'albero del remix abbiamo quindi il nostro il nostro remix in questo caso dal momento in cui il progetto è unico abbiamo solo il questo progetto qualora ci fossero stati altri progetti che a partire da questo progetto avremmo avuto più rami collegati al progetto da cui nasce l'altro progetto formando appunto un albero di progetti nati da una stessa idea e sviluppati quindi un po' guardando e condividendo delle parti dei progetti precedenti bene una cosa molto importante questo sito che ci permette oltre che esaminare i progetti di altre persone anche di andare a guardare nella pratica come si è arrivato al risultato ossia come è stato creato lo script e come sono stati inseriti i personaggi per fare questo dobbiamo cliccare su guarda dentro e quindi come vedete abbiamo gli sprite la schermata di scratch con tutti gli sprite con tutti gli script riguardanti gli sprite che ci permettono nel dettaglio di capire come è stato creato l'intero programma adesso andiamo a vedere un'altra cosa fondamentale del sito ossia come creare direttamente online un progetto per crearlo dobbiamo premere sul tasto crea e ci verrà aperto un nuovo progetto questo progetto quindi può essere modificato possiamo dare un nominativo al progetto possiamo modificare gli sprite inserire i codici e il nostro progetto sarà salvato automaticamente ogni cambiamento che verrà fatto successivamente possiamo o chiudere il progetto senza condividerlo e quindi comunque sarà modificabile da noi creatori oppure condividere il progetto quando per esempio abbiamo terminato il progetto condividerlo e quindi anche gli altri anche i visitatori potranno esaminare un progetto svolto un'altra cosa fondamentale è che possiamo anche esportare il nostro progetto possiamo sia caricare un progetto sia caricare dal computer premendo su carica dal tuo computer quindi carichiamo un progetto che abbiamo creato con scratch offline che tra poco vedremo come scaricare oppure possiamo scaricare il nostro progetto facendo il download sul computer del progetto abbiamo visto quindi come lavorare online sul sito direttamente di scratch ma adesso andiamo a vedere come poter installare scratch allora per installare scratch andiamo in basso abbiamo tanti link riguardanti scratch e per trovare tutto il necessario per scaricare e utilizzare scratch offline dobbiamo andare a supporto editor editor offline e qui avremo quindi vari passaggi da fare quelli obbligatori per avere scratch sono il passaggio 1 e 2 dove dobbiamo al passaggio 1 installare adobe air a seconda del nostro sistema operativo quindi lo installiamo lanciamo adobe air e successivamente passiamo al passaggio 2 dove installiamo l'editor offline di scratch 2 a seconda del nostro sistema operativo lo installiamo e lo lanciamo dopo di che avremo quindi il nostro editor di scratch offline quindi che funzionerà anche non avendo la connessione a internet e anche al di fuori del nostro sito di scratch che sarà esattamente come quello che ci dà scratch che abbiamo visto precedentemente cliccando sul tasto crea il terzo punto sono una serie di progetti quindi il primo è una zip con all'interno tanti progetti base fatti con scratch che quindi possiamo esaminare guardando dentro come abbiamo visto precedentemente e gli altri due sono dei pdf con delle guide per iniziare quindi questo è il primo pdf con delle guide per iniziare dove praticamente mi dice appunto dal sito di scratch premi su crea registrati entra con il tuo account e poi ci sono delle piccole attività inserisci un blocco di movimento inserisci un blocco di voce e così via e poi abbiamo delle schede delle piccole schede delle schede di scratch che possono essere anche stampate ritagliate anche per fare queste schede dove ci sono per ogni scheda delle attività molto semplici con i vari passaggi da fare passo passo per iniziare a prendere dimestichezza con scratch come vedete c'è un'attività sul ballo un'attività per far muovere il topolino un'attività per fare dei dialoghi e così via ci sono tante schede torniamo adesso alla nostra home e come avete visto il sito di scratch più che altro ha come obiettivo quello di poter condividere delle proprie idee e anche dare spunti ad altre persone per poter iniziare i propri lavori con questo è tutto vi do appuntamento alla prossima lezione dove entreremo nel vivo di scratch alla prossima a Grazie a tutti